Cambiare atteggiamento, stile di vita e mettere in campo un approccio all'attività economica, allo sviluppo, al commercio che sia basato sulla persona, centrato sulla sua dignità, così da costruire finalmente un mondo più giusto, favorire l'inclusione sociale, la solidarietà e, cosa più urgente, creare nuovi posti di lavoro. Lo ha chiesto il Papa ricevendo in Vaticano i partecipanti all'incontro della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Promuovere lo sviluppo umano integrale richiede dialogo e coinvolgimento con i bisogni e le aspirazioni della gente. Richiede di ascoltare i poveri e la loro quotidiana esperienza di privazioni molteplici e sovrapposte, scogitando specifiche risposte a situazioni concrete. Ciò richiede di dar vita all'interno delle comunità e tra le comunità e il mondo degli affari a strutture di mediazione capaci di mettere insieme persone e risorse, iniziando processi nei quali i poveri siano i protagonisti principali e i beneficiari. Al centro delle preoccupazioni di Francesco ancora il grave problema della disoccupazione di giovani e adulti che ha affermato ha raggiunto un livello altissimo. Il Papa ha denunciato questa piaga invocando risposte urgenti in virtù di un senso di giustizia tra le generazioni e di responsabilità per il futuro. Allo stesso modo il Pontifice ha chiesto di affrontare le questioni connesse alla crescita delle nuove tecnologie e alla trasformazione dei mercati. L'imperativo consegnato alla Fondazione Centesimus Annus è puntare sulla famiglia e non soltanto sull'individuo.